carissimi amici ben ritrovati ci ritroviamo questo pomeriggio a degustare uno dei miei vini parliamo del rosato 100 per cento berlò mio padre iniziò negli anni 79 a creare questo vino ma noi lo abbiamo riproposto in epoca recente quindi l'ispirazione che ho avuto è quello di pensare con la provenza e a queste note balsamiche che di solito si si propagano in questi giardini e i ricordi di questa lavanda che è spettacolare già portando il bicchiere al naso percepiamo questi profumi di magnolia di glicine che si aprono a ventaglio notiamo anche sentori di agrumi con richiami di lime e anche lampone ma la cosa più interessante è il gusto quindi quando noi assaggiamo questo vino questo si apre veramente ampio quindi è come un vino gioioso quindi io lo consiglio proprio per accompagnare sulla pizza sulla focaccia sulle carni bianche proprio il vino della piacevolezza che si può bere tranquillamente in tutte le occasioni ma soprattutto un vino che dobbiamo imparare a tenere nella classe quindi sempre presente sulle nostre tavole quindi auguro a tutti buona degustazione e alla prossima